Buongiorno a tutti, un piccolo controllo sul livello audio e poi cominciamo. Io sono Carlo Bonamico, intanto che abbiamo il webinar potete andare sul mio profilo Twitter che è appunto Carlo Bonamico, scritto tutto attaccato e avete il link per l'esempio online che utilizzeremo durante la presentazione. Ok, mi confermate quindi che si sente bene? Ok, un attimo solo, mi assicuro che è tutto ok, perfetto. Allora, benissimo, buongiorno a tutti, io sono appunto Carlo Bonamico di Nisse, una società di consulenza in ambito IT e collaboriamo da anni con il Codemotion ed è con molto piacere che partecipo a questo primo Codemotion Tech Day virtuale che ci permette di avere uno scambio efficace sulle ultime novità tecnologiche e anche esplorare l'efficacia di una modalità di apprendimento e comunicazione che è sempre più valida per mantenersi aggiornati sulle tecnologie di nostro interesse. Appunto, come introducevo un attimo fa, sul mio profilo Twitter Carlo Bonamico, tutto attaccato, trovate il riferimento al link dell'hub online che effettueremo durante questa presentazione. Questo in modo da potervi consentire di giocare e seguire gli esempi che farò durante la mia presentazione. Allora, l'argomento di oggi è AngularJS Best Practice by Example. Noi conosciamo tutti questo framework molto sofisticato proposto da Google e sicuramente, un attimo che mi viene, vedo che c'è forse una domanda, un attimo che controllo se, ok, perfetto. Un attimo che vedo che c'è un'altra domanda, ok, poi giustamente chi dice chi non ha Twitter come può accedere al link, vediamo se riesco a metterlo nella chat del sistema di webinar, vediamo se mi confermate che lo avete visto nella chat, direi di sì. Ok, comunque poi semmai lo manderemo, lo pubblicheremo in ogni caso a beneficio di tutti tramite il... Ok, perfetto, grazie a tutti. Benissimo, allora possiamo cominciare. Quindi l'argomento di oggi è AngularJS Best Practice by Example. Cosa significa? Significa che il framework Angular è un framework estremamente sofisticato, che sta avvenendo una diffusione molto forte, ci stiamo avvicinando tutti allo sviluppo HTML5, in questo momento è in corso un po' un passaggio generazionale dal punto di vista delle tecnologie web, nel senso che sempre più in ambito web si utilizzano modalità architetturali con cui il rendering e la costruzione della pagina che noi vediamo non avviene più lato server, come con le tecnologie tradizionali PHP, JSP, ASP, ma il server diventa un back-end che fornisce dei servizi, molto spesso servizi REST oppure WebSocket, e tutta la parte di user interface viene realizzata lato client in quelle che vengono chiamate single page application, di cui poi tutti i principali servizi online sono ormai un esempio, da Gmail, Twitter e così via. Realizzare una single page application offre delle potenzialità di interazione con l'utente, veramente molto forti, molto interessanti, la possibilità di realizzare nel browser un livello di dinamismo, di sofisticazione grafica e di user experience, che tradizionalmente era riservato ad applicativi desktop. Allo stesso tempo pone tutta una serie di sfide, soprattutto perché passiamo a realizzare nel client, quindi nel browser, con le tecnologie del browser, quindi HTML5 e JavaScript, quello che è un vero e proprio applicativo. E quindi il linguaggio JavaScript, che premettiamo è un linguaggio estremamente sofisticato, ma con caratteristiche decisamente diverse dai linguaggi utilizzati nello sviluppo server-side, in particolare dai classici Java o .NET, è un linguaggio che dà grandissime potenzialità, ma allo stesso tempo ha meccanismi diversi per gestire quelle che sono le esigenze nella realizzazione di un applicativo di dimensioni medio-grandi. Allora, vedo una segnalazione di problemi audio, potete confermare se sono puntuali o diffusi, in modo che vediamo se è necessario sistemare qualche cosa. Ok, allora, per chi avesse problemi individuali, grazie, grazie a tutti, problemi individuali di audio, comunque il webinar viene registrato e sarà poi pubblicato su YouTube a breve. Quindi dicevamo, JavaScript è un linguaggio molto sofisticato, dove però di per sé il linguaggio è un linguaggio estremamente dinamico, dove quindi è molto semplice realizzare in poche righe di codice funzionalità complesse, ma allo stesso tempo è anche molto semplice creare il classico guazzabuglio che gli americani gentilmente chiamano spaghetti code, cioè codice dove è tutto incrociato come gli spaghetti in un piatto di spaghetti. e quindi se questo può essere, non dico ottimale, ma sicuramente può ancora essere accettabile in applicativi piccoli, dove JavaScript viene utilizzato tipicamente per arricchire l'interazione, visualizzare dei menu dinamici o validare singoli campi, se noi realizziamo in JavaScript un intero applicativo con tutte le logiche, con tutte le dinamiche di navigazione, controllo, input out, comunicazione col back-end, un approccio non strutturato allo sviluppo JavaScript porta spesso e rapidamente alla realizzazione di applicativi che non sono poi mantenibili e diventano un problema e un limite per lo sviluppo del nostro servizio. AngularJS, che ora ovviamente non possiamo riassumere in pochi minuti come descrizione dell'intero framework, porta sostanzialmente allo sviluppo HTML5 due elementi fondamentali, prima di tutto una struttura, cioè un framework che propone un modo specifico di strutturare gli applicativi, che allo stesso tempo guida lo sviluppatore ma è abbastanza flessibile da potersi adattare a contesti applicativi differenti e questo permette di realizzare applicativi di dimensioni medio-grandi con minor sforzo e con maggiore facilità di testing, di mantenibilità, di evoluzione del servizio. Il secondo punto di forza del framework, ed è uno dei temi di fondo comunque del webinar di oggi, è che è fortemente basato sul concetto di composizione di componenti e comportamenti elementari e questo ci permette di suddividere un applicativo sofisticato con delle funzionalità complesse in un insieme di singoli componenti e singole parti che poi possono essere combinate tra di loro e molti dei comportamenti più sofisticati di Angular nascono proprio dal fatto che il framework automaticamente combina tra di loro componenti elementari per realizzare delle dinamiche e dei comportamenti più complessi. Come ci proponiamo di proseguire? L'idea è quella di partire da una piccola applicazione Angular che sia un po' rappresentativa di almeno alcune caratteristiche di quello che è un applicativo single page e vedere come passando da un applicativo che funziona, che ha un suo funzionamento corretto, possiamo arrivare però a strutturarlo secondo quelle che possono essere delle best practice che facilitano il riuso, l'evoluzione, la manutenzione di questo stesso applicativo. L'applicativo di cui stiamo parlando è visibile in Plunker che è questo ambiente di sviluppo online molto molto efficace come strumento di sperimentazione e di didattica nel senso che consente di prototipare nel browser un'intera applicazione che ha una vista HTML, ha degli scritti, JavaScript, CSS, eventuali file aggiuntivi che è possibile aggiungere e questi vengono visualizzati in tempo reale con una funzionalità di preview, che potete vedere qui con il pulsante Run in alto, che man mano che noi effettuiamo modifiche alla sorgente dell'applicativo, per esempio adesso vado a scrivere qui una modifica all'HTML, questa modifica viene refreshata immediatamente, quindi una modalità di Live Reload che è molto efficace per imparare. Quindi il nostro applicativo è ovviamente semplificato, un clone di Twitter implementato in AngularJS, in questo caso senza un vero back-end, ma simulando quello che potrebbe essere il dialogo con un back-end vero e proprio. Quindi il comportamento che possiamo avere è quello di potersi loggare, quindi posso mettere qui il mio ID e una password, il campo dovrebbe essere di tipo nascosto, quando mi loggio viene visualizzato il mio username e un eventuale pulsante di logout, ho la lista dei tweet, ho la possibilità di aggiungere dei tweet che compaiono nella lista, ovviamente in questo caso non sono veramente mandati sul server, e ho poi la possibilità di marcare un tweet come favorito, quindi come preferito, oppure smarcarlo. Questo è un insieme di comportamenti di base, realizzati utilizzando Angular come framework di sviluppo, Bootstrap giusto per dare un minimo di vernice, di vero simiglianza grafica al nostro esempio, e come vedete è un applicativo semplice, però che offre già una funzionalità interessante, o rappresentativa di quello che è un applicativo single page tipico. Questo applicativo è un applicativo realizzato alla veloce, appunto come demo per questo webinar, in poco più di un'oretta di lavoro, e quindi rappresenta il classico esempio di applicativo che funziona, ma è poco mantenibile. E adesso vediamo come mai. Vediamoci una domanda. Ok, domanda. Quali sono le limitazioni in applicativo single page? Beh, diciamo, per essere molto rapidi, i vincoli maggiori possono essere, prima di tutto, problematiche di ottimizzazione da parte delle ricerche, dei motori di ricerca, al cosiddetto SEO, Search Engine Optimization, nel senso che i contenuti sono renderizzati lato client, e di conseguenza non tutti i motori di ricerca sono in grado di indicizzare i contenuti della vostra applicazione. Google si sta spingendo molto in questa direzione, ha aggiunto al proprio indicizzatore il supporto per eseguire, di fatto, le principali pagine dell'applicativo e ottenere comunque una vista HTML, poi indicizzabile a livello di contenuti. Però è un approccio molto innovativo, Google stesso lo ha introdotto poco più di sei mesi fa, e quindi se voi utilizzate un'applicazione single page per la gestione non tanto di un'interazione con l'utente, quanto della presentazione di contenuti, questi contenuti non saranno facilmente indicizzati da parte di un motore di ricerca. Poi si possono utilizzare le tecniche per compensare questo effetto, però richiede uno sforzo aggiuntivo. Un secondo aspetto è che bisogna porre un'attenzione particolare a quello che sono le prestazioni, perché se da una parte il fatto di spostare il rendering lato client con la sofisticazione e la potenza di elaborazione dei desktop moderni consente anche di ottenere delle prestazioni grafiche molto interessanti, allo stesso tempo, per esempio, se io ho una pagina che visualizza una quantità elevata di dati, il primo caricamento potrebbe essere comunque più lento in un applicativo single page che in una pagina pre-renderizzata dal server, dove magari il server potrebbe avere già in cache una pagina che contiene quei valori già pre-renderizzati e mandarla subito al client, mentre nel caso di un applicativo single page il browser prima deve scaricare i sorgenti dell'applicativo, poi deve scaricare le librerie a cui l'applicativo si appoggia, poi deve interrogare il servizio rest e poi deve renderizzare i risultati. Però stiamo parlando abbastanza di casi specifici, cioè c'è una vasta gamma di casi applicativi in cui l'approccio single page è efficace e nei due casi che abbiamo citato esistono comunque un insieme di tecniche per ottimizzare le cose e quindi ottenere comunque il comportamento voluto con un'attenzione particolare. Ora diamo un'occhiata a come è implementato l'applicativo e quali possono essere gli spazi di refactoring e riorganizzazione per renderlo più conforme con quelli che sono le best practice a livello del framework angular, le linee guida di sviluppo e soprattutto per renderlo più mantenibile, più riutilizzabile, nel senso che noi potremmo arrivare a definire dei componenti o degli elementi che potremmo riutilizzare anche in altri contesti applicativi legati sempre a questo mondo di Twitter simulato. Diamo un'occhiata prima di tutto alla pagina di vista, c'è un body con il classico tag directive in ng-app che inizializza l'applicazione, poi abbiamo una prima sezione che corrisponde alla form di login dove io vado a mostrare i campi username e password oppure il pulsante il profilo e il pulsante di logout a seconda dello stato della login, poi ho una seconda parte gestita da un controller Twitter controller che si occupa di visualizzare la form di input di un nuovo tweet, questa, e visualizzare la lista dei tweet utilizzando un classico ng-repeat che itera sulla lista dei tweet, per ogni tweet visualizza l'utente in grassetto, il testo e una barra di bottoni. Questa cosa che sembra molto verbosa in realtà è soltanto per la lista delle classi bootstrap che dà l'abilitazione delle varie icone, delle freccette, della stella e della condivisione. L'altra cosa che ci interessa in particolare sono la visualizzazione del bottone dei tweet preferiti che in questo caso, fatto alla veloce, quindi vedremo poi come migliorare questo aspetto, è implementato in realtà disegnando due diversi bottoni, un bottone nero e un bottone giallo che vengono attivati e disattivati in funzione dello stato del campo favorite del tweet. Quindi vediamo che le cose funzionano, ma abbiamo un'unica pagina HTML che comprende tutta la presentazione di questo applicativo e se diamo un'occhiata a quello che è gli script, abbiamo un unico file on script.js che contiene tutti i vari controller, c'è un servizio da login, c'è un filtro, c'è tutta una serie di componenti tutti uniti insieme e questo rende l'applicativo meno facilmente evolvibile. Aria Label è relativo al material design? No, Aria è una tecnologia per l'accessibilità in HTML5, quindi i tag Aria sono uno standard legato ad HTML5 per l'aggiunta di informazioni utili ai tool di accessibilità, quindi a uno screen reader piuttosto che ad altri strumenti che facilitano la navigazione per chi ne ha necessità. Poi in particolare i componenti del material design di Google hanno un buon supporto per lo standard Aria e anche l'ultima versione di Angular, la versione 1.3, ha introdotto anche in Angular Core tutta una serie di supporti specifici per facilitare il tema dell'accessibilità. Ora cominciamo a vedere un pochino più nel dettaglio il comportamento dei servizi e controller applicativi e capire dove noi possiamo ottenere un miglioramento a livello di funzionalità. Vediamo che il controller di login segue la struttura un po' classica di quello che può essere un controller Angular, vedo c'è un'altra domanda. Ok, perché dall'interfaccia non si vedono le domande degli altri? Non saprei darvi una risposta su due piedi, è una configurazione dell'applicativo che stiamo utilizzando per il webinar, magari lo possiamo andare a discutere in coda alla presentazione in cui dedichiamo un pochino più di spazio alle domande libere. Il login controller ha la classica struttura di un controller, di un applicativo Angular, cioè inizializza i valori di default nello scope, lo stato di alcune variabili necessarie per la gestione dell'interazione e poi richiama sostanzialmente le funzioni di un servizio, login service, che si è fatto iniettare. Il meccanismo della dependency injection è il principale meccanismo con cui Angular permette di comporre due pezzi elementari, quindi qui vediamo che abbiamo il login service che si occupa di validare non utente password, in questo caso il nostro login service è un mock che ritorna sempre true, però nella realtà andrebbe a interrogare il servizio di autenticazione di Twitter per verificare la correttezza delle credenziali. Questo servizio è un servizio a sé stante, è correttamente del tutto indipendente da quella che è la user interface ed è quindi riutilizzabile facilmente in applicativi diversi che abbiano bisogno di loggarsi rispetto alla Twitter API. Io posso in un controller, invece di implementare la chiamata HTTP per invocare il servizio di validazione direttamente nella funzione di login del controller, giustamente qui si è scelto di delegare al servizio di login l'invocazione del backend per la validazione delle credenziali. Ora vediamo come il servizio è di conseguenza già facilmente testabile così com'è, in quanto è del tutto slegato da user interface, io posso scrivere degli unit test con Jasmine per esempio, su questo poi un buon riferimento può essere il mio precedente webinar di CodeMotion che parlava dei filtri custom e del testing. Ok, audio sparito, ci sono altre persone che segnalano problemi audio? Il controller si può testare, Angular offre delle funzionalità specifiche per il testing del controller facendo un mock del servizio e andando a simulare la presenza dello scope, possiamo in realtà ad esempio renderlo ancora più facilmente testabile utilizzando la sintassi del controller AS, attraverso la quale nella pagina HTML, noi possiamo referenziare direttamente il login controller con un nome, quindi per esempio ASVM che sta per VueModel oppure ASLoginController e a questo punto definire le variabili di stato in funzione del VueModel e andare a scrivere il controller direttamente come un oggetto JavaScript, un costruttore di una classe che valorizza i campi dell'oggetto. Quindi in questo modo noi otteniamo una struttura del controller che è ancora più lineare e è ancora più indipendente dalla user interface, cioè in particolare è legato alla logica di controllo e non ha più bisogno di farsi iniettare lo scope. Questa sintassi è stata aggiunta in Angular 1.2 e permette di ottenere dei controller che sono sostanzialmente dei costruttori di classi JavaScript che hanno la logica di controllo che può essere ancora più facilmente testata o riutilizzata in vari contesti. Andando avanti vediamo quello che è l'altro principale limite dell'architettura di questo applicativo. Ok, vedo due domande. Angular module è l'equivalente di una funzione, su questo diremo qualcosa tra poco. Il login service. Il login service viene iniettato. Cosa significa? Significa che noi abbiamo definito il login service che è un oggetto JavaScript formato da, in questo caso, una variabile privata e un metodo esposto all'esterno che si chiama validate, che va a verificare la correttezza delle credenziali. Questo servizio viene registrato con questa riga, con una certa etichetta, login service, nel registro dei servizi di Angular e questo lo rende disponibile per l'injection, ovvero per essere passato a qualsiasi altro componente dell'applicativo, in questo caso a un controller, quindi vedete che io qui scrivo login controller è una funzione costruttore che ha bisogno come parametro del login service e, diciamo magicamente, Angular passa l'istanza di login service che abbiamo dichiarato qui a questo controller in modo che poi può essere utilizzata e referenziata al suo interno. Allora, vedo una serie di domande, quindi vediamo di dare un po' di risposte. Quella differenza tra definire i parametri nello scope e nel costruttore del controller? Allora, l'approccio a scope piuttosto che il controller res sono due approcci funzionalmente molto quasi equivalenti. Diciamo che se non si ha bisogno specifico nel controller di accedere direttamente allo scope è preferibile utilizzare l'approccio di definire direttamente i parametri nel controller perché sono comunque poi visibili nello scope. Di fatto, se noi utilizziamo la sintassi del controller res, quello che succede è che nello scope viene messo l'oggetto controller con i suoi metodi e le sue variabili. I casi in cui è necessario utilizzare direttamente lo scope sono casi in cui noi dobbiamo interagire con l'API dello scope, quindi dichiarare per esempio dei watch o dei digest direttamente, che sono però un sottoinsieme piccolo dei casi. Allora, il servizio login service non necessariamente deve essere dichiarato prima nei sorgenti, ma appunto appoggiandosi il meccanismo di dependency injection alla risoluzione del registry di Angular, purché il login service sia stato dichiarato nel registry, quando Angular inizializza il controller ha garantito che gli altri componenti siano già stati inizializzati. Allora, le altre domande sull'utilizzo del controller res? Allora, queste variabili username e password non sono variabili globali, sono variabili locali del controller ma pubbliche. Esse sono poi visibili nello scope perché l'oggetto che qui vediamo dichiarato come this è visibile nello scope con il nome, con l'alias vm e quindi io posso accedere a queste variabili come vm.isloggedin, di fatto punta a questa variabile qui. Non è necessario quindi inserire dei proxy. Io non ho utilizzato per velocità e brevità la sintassi che dichiara le dipendenze da iniettare con l'array, questa sintassi è necessaria se si vuole minificare il sorgente, fin tanto che non dobbiamo minificare il sorgente se ne può fare a meno. Non ho capito quest'ultima domanda di Matteo. Francesco dice che di fatto l'oggetto controller viene messo come variabile vm o comunque con l'alias che io scelgo nell'html e viene messo nello scope. Quindi invece che avere direttamente scope.username io faccio implicitamente scope.vm che è l'alias del login controller.username.isloggedin.login. Questa sintassi qui è anche particolarmente utile quando io ho una sezione di html su cui interagiscono più controller perché in questo modo posso discriminare quelli che sono le variabili posizionate nei diversi controller. Un secondo aspetto che vediamo è un limite invece di quello che noi abbiamo chiamato twitter controller. Qui vediamo che abbiamo una sezione dell'applicazione abbastanza corposa in termini sorgenti che di fatto incorpora il 90% di quello che è il comportamento della nostra demo ovvero tutta la lista dei tweet e la form per sottomettere un nuovo tweet. Quindi sostanzialmente l'80% del funzionamento dell'applicazione è tutto concentrato in questo twitter controller che qui ovviamente sembra piccolo perché essendo un'implementazione dimostrativa non considera tutti i casi limite di tutte le possibili situazioni. In un applicativo vero facilmente un unico controller che va a gestire l'inserimento del tweet, i preferiti, l'ordinamento, il caricamento dei tweet da remoto diventa facilmente molto grande e poco mantenibile. Quindi il nostro obiettivo adesso è di suddividere ciò che c'è qui dentro, questo twitter controller e separarlo in diversi componenti e qui è proprio sfruttare la potenza di Angular che rende fortemente decomponibile la logica, la presentazione, l'interazione in applicazione in tanti componenti elementari ognuno dei quali ha una funzione specifica. Questo ci permette di implementare anche facilmente in un applicativo client size, single page, javascript quelli che sono i buoni principi del design, quindi quelli che vengono chiamati i principi dell'obgetto oriente, dei solid principle. Poi Twitter ho un riferimento su questo che è sicuramente un tema molto importante. Il primo principio del design è la separazione delle responsabilità, ovvero ogni elemento dell'applicativo dovrebbe fare una cosa e farla bene. Invece vediamo che questo twitter controller in realtà fa n cose, cioè inizializza il tweet di default, scarica l'array dei tweet dal server. In questo caso notate che io ho simulato la presenza di un server mettendo nel plunker un filetto json che contiene i dati da scaricare dal server e facendo una richiesta get all'url del nome di questo file, timeline.json, io posso sostanzialmente fare un mock di un API del server. E questa è una tecnica che di nuovo in fase di prototipazione o anche in fase di sviluppo di un applicativo single page è molto molto efficace perché ci permette di lavorare rapidamente sulla parte di GUI partendo da una specifica di quello che sono i dati che dovrebbero essere ritornati dal backend e magari in parallelo un'altra parte del team può lavorare a costruire un backend che effettivamente vada a ritornare questi risultati. Ora la prima cosa che noi possiamo provare a dire è questa funzionalità che va a scaricare i tweet dal server, che anche qui sono tre righe perché è un sample, nel caso reale avrai anche tutta la gestione delle casistiche di errore, di comunicazione col server, il retry, un'eventuale paginazione e ottimizzazioni con versioni di formato varie. Non è corretto che stia dentro il controller, nel senso che non rappresenta una funzionalità di interazione con l'utente, che sarebbe il ruolo del controller, ma rappresenta una funzionalità di logica, anzi addirittura un particolare tipo di logica che è la logica che va a dialogare con il backend. Quindi il posto corretto in Angular per collocare questo tipo di funzionalità è all'interno di un servizio. E quindi quello che possiamo andare a fare è, analogamente a quanto abbiamo definito per il login service, andare a dichiarare un timeline service che va a effettuare il download dei dati. Quindi andiamo a spostare questa get nel servizio. Quindi facciamo una funzione getTimeline, dichiariamo una variabile privata tweets, di creiamo una funzione, mettiamo che qui vengono salvati i dati dentro questa variabile e poi ritorniamo il riferimento ai tweet. E quindi a questo punto noi andiamo a farci iniettare, invece che $HTTP, che è il servizio a basso livello che andrebbe a scaricare i dati dal timeline service, dal backend, andiamo a farci iniettare direttamente il timeline service e quindi andiamo a scrivere scope.twits uguale timeline service.getTimeline. Ok, ora qui c'è ancora un piccolo problema e apparentemente la chiamata non funziona. Cerchiamo di capire insieme come mai. Apriamo la prima cosa da fare quando c'è qualcosa che non va in un applicativo Angular e andare sulla console e vedere se ci sono degli errori. ora qui rilanciamo l'applicativo per assicurarci che non ci siano errori di compilazione. Errori di compilazione non ce ne sono. Allora dove sta il problema? Il problema sta che nella funzione di success... Ok, allora una prima domanda è se è necessario condividere dei dati a livello di tutta l'applicazione dove si possono mettere? La risposta è in un servizio, cioè il primo modo, il modo principe di condividere dati da parte di più controller e di parti diverse dell'applicazione è proprio quello di incapsularli all'interno di un servizio. Il motivo per cui noi non vediamo i tweet adesso è che quando noi scriviamo questa riga viene messo nello scope il risultato della chiamata, questo risultato viene bindato nello scope, il data binding di Angular si lega quindi a questo array. Quando poi andiamo a invocare la funzione getTimeline e in maniera sincrona in un secondo momento viene chiamata la callback di successo e arrivano i tweet, viene sovrascritto questo array quindi lo scope puntava all'array precedente e non a quello che mi è stato ritornato adesso. Per risolvere questo problema possiamo seguire due strade. Possiamo seguire due strade, mi vengono chiesti questi due parametri che non servono però di fatto in javascript i parametri delle funzioni sono opzionali, quindi dato che noi non li utilizzavamo nel corpo della funzione anche se non vengono passati non fa differenza. Questo è uno dei punti di attenzione, in javascript è tutto fortemente dinamico e di conseguenza è necessario prestare attenzione particolare alla struttura dei dati che andiamo a utilizzare. In questi casi il principale strumento di debug dell'applicativo sono proprio i developer tool dell'ambiente di sviluppo, io nella sezione sources posso andare a cercare i sorgenti dell'applicativo quindi vedete il sorgente della pagina, mettere dei breakpoint, quindi possiamo andare a mettere qui un breakpoint, un breakpoint, devo avere qualche problema forse legato alla risoluzione della pagina per cui non mi fa settare i breakpoint, però in questa sezione sources noi possiamo mettere dei breakpoint sui singoli metodi, ecco qua, non si vede per un problema di refresh e nel momento in cui rilanciamo l'applicativo, l'applicativo viene fermato in debug, possiamo andare avanti fare uno step passo passo e verificare nel comportamento un passo alla volta. Una possibile soluzione è passare a propagare l'arrivo asincrono dei dati, esattamente, il discorso sulla chiamata asincrona fatto da Matteo è proprio l'osservazione corretta, cioè il metodo gettimeline fa una chiamata asincrona quindi noi ritorniamo l'array originario prima che arrivi nei dati e poi i dati arrivano in un secondo momento l'array viene sovrascritto ma il binding nella pagina è ancora fatto all'array ritornato la prima volta. Ora qui possiamo seguire strade diverse, quindi noi possiamo dire modo veloce che adottiamo adesso è di dire angular.foreach Andiamo a concatenare gli elementi ricevuti all'array originario, quello che abbiamo dichiarato qua e quindi adesso li vediamo. Ora c'è un modo di evitare questo passaggio, però adesso non abbiamo il tempo di vederlo, ad esempio se utilizziamo il servizio client-rest dollaro-resource invece che dollaro-http, questo comportamento è fatto automaticamente dal servizio dollaro-resource. Quello che ci interessa a livello di strutturazione dell'applicativo è il fatto che noi abbiamo separato il funzionamento del controller che dice io assumo che esista un array di tweet dal funzionamento di come vengono pescati questi tweet e quindi facilmente noi abbiamo incapsulato un primo componente che è il timeline service che poi nello specifico implementa il fatto che i tweet sono scaricati con una chiamata rest in http. Per esempio a questo punto diventa molto più facile sostituire in un futuro, se interessasse, il servizio gettimeline con un meccanismo che magari è basato sui websocket invece che su una chiamata http. Questo a questo punto è incapsulato nel timeline service. Vediamo un'altra domanda. Sì, si potrebbe anche annegare l'array in un oggetto e un'altra soluzione. La soluzione più pulita è utilizzare le promise e quindi fare un ritorno dei dati asincrono, però non abbiamo il tempo di vederlo adesso, potrebbe facilmente essere un argomento per un prossimo webinar. La prima cosa che abbiamo scomposto è dire che la funzionalità di scaricamento dei tweet è delegata ad un servizio ad hoc. L'altra cosa che non ci piace di questo controller è che di fatto gestisce tre funzionalità diverse, cioè l'inizializzazione della lista, il fatto di scaricare i tweet dal server, la composizione di un nuovo messaggio, cosa che possiamo magari evidenziare meglio in questo modo, quindi questa seconda funzionalità, e la gestione di qual è il tweet favorito, preferito. Quello che possiamo vedere adesso è come scomporre quest'unico macrocontroller in più controller, ognuno dei quali è responsabile soltanto di una specifica funzionalità. Quindi andiamo a dire, noi andiamo a creare un altro controller in cui spostiamo la gestione del post di un nuovo tweet. Questo lo chiamiamo per esempio post, twitter o create, compose. Ecco, la nomenclatura, vedete, io dedico un po' di tempo a dare un buon nome alle cose. Questo è estremamente importante, sono pochi secondi dedicati in più al momento della scrittura del codice, ma molto efficace e tempo guadagnato nel momento in cui io dovrò mantenere e riutilizzare l'applicazione. Il compose Twitter controller avrà semplicemente la funzionalità di leggere il valore di input inserito dall'utente, comporre il nuovo tweet e aggiungerlo all'array dei tweet. E qui vediamo nel dettaglio, con un esempio concreto, come far comunicare tra di loro due controller. Ovviamente dobbiamo in prima battuta modificare la pagina, quindi noi dobbiamo dire che l'NG controller, Twitter controller, non è più applicato a tutta la section, ma è applicato alla lista dei tweet da scaricare. e invece il campo di inserimento di un nuovo tweet è controllato dal compose Twitter controller. Ora qui abbiamo un errore, presumibilmente, che è quello che dividiamo. Stiamo aspettando. A volte oggi è un po' sovraccarico Planck, ma dovrebbe arrivare adesso la risposta. Intanto vediamo una domanda. Intanto che aspettiamo che arrivi la risposta dal server di Planck, c'è un momento di lentezza di rete, nel frattempo si è riabilitato il debug, quindi vedete che io ho debuggato comunque l'ultima chiamata. La domanda sulla differenza tra service e factory. Diciamo che la dichiarazione service e la dichiarazione factory sono due modi diversi di dichiarare un servizio e quello che cambia sono le modalità di inizializzazione dell'oggetto. Nel caso del service è un singleton istanziato a priori, nel caso della factory è sempre un singleton, ma è istanziato dinamicamente la prima volta che viene richiamato. C'è anche la possibilità di dichiarare dei servizi che non sono singleton attraverso il costrutto provider. Vedete l'efficacia del pair programming, quindi qualcuno di voi ha già individuato che io avevo scritto col case errato il nome del controller e lo andiamo a modificare e correggere. A questo punto vedete che è correttamente funzionante, nel senso che vediamo la scritta iniziale. Quello che invece non ci torna è che a questo punto schiacciando il pulsante tweet noi non riusciamo a aggiungere questo tweet alla lista dei tweet. Questo perché? Perché noi abbiamo due scope. Lo scope di composizione, lo scope di visualizzazione della lista dei tweet e in questo momento sono disgiunti e quindi quello che prima era una comunicazione a livello dello scope dove la funzione tweet che compone il nuovo tweet andava a fare un'aggiunta del tweet a un array tweets nello scope non funziona più perché nello scope in alto, quindi in quello della composizione, l'array dei tweet non c'è più. La soluzione a questo punto è proprio quella di appoggiarsi al service, quindi andare a definire all'interno del servizio una funzione di pubblicazione, quindi anche qui andiamo a dire, prendiamo questo pezzo di codice che di fatto è logica di composizione del nuovo tweet e lo andiamo a spostare all'interno del servizio, quindi nel timeline service noi andiamo a dichiarare un'altra funzione is.posttweet uguale function message dove andiamo a costruire la struttura del nuovo tweet e a questo punto non lo mettiamo più nello scope, ma lo mettiamo nell'array dei tweet, che è una variabile privata del servizio. La prima cosa che vedete ora è che il servizio timeline service è di colpo diventato molto più descrittivo di quello che è la logica applicativa dell'applicativo Twitter, cioè Twitter ha la modalità di scaricare dei tweet da un server remoto e di creare un nuovo tweet. Ora ovviamente qui oltre all'anshift ci vorrebbe una post sul server remoto che non c'è perché non c'è un vero back end. Quindi il servizio incapsula la nostra logica applicativa, può essere molto facilmente fatto uno unit test di questo servizio, quindi io posso fare un test in cui istanzio timeline service faccio la post di un messaggio e poi vado ad asserire che nell'array dei tweet l'array si è diventato più lungo di uno. E posso però allo stesso tempo riutilizzare il timeline service all'interno del compose controller per postare il messaggio. E a questo punto vedete che ho di nuovo il funzionamento di prima, cioè se io vado a scrivere qualche cosa qui, questo messaggio va a finire nella variabile message dello scope del compose Twitter controller, quando schiaccio il pulsante tweet viene chiamato il metodo tweet del compose Twitter controller, questo delega al servizio la gestione di quest'operazione. Il servizio ha un modello comune, questo, condiviso dalla funzione di lettura dei tweet e dalla funzione di post di un nuovo tweet. Quindi a questo punto io non ho più vincoli su dove posizionare nella pagina la composizione o la lista e potrei anche cambiare, avere diversi controller che in modo differente vanno a visualizzare la composizione. Allora vedo un po' di domande, poi ci avviamo a convergere verso la fine della presentazione. Dunque è possibile disinstanziare service che siamo sicuri non ci servono più. Diciamo si può interagendo con le API a basso livello del registry di Angular, non è banale ma si può fare. Altra osservazione di Alessandro, per motivi di isolamento del codice potrebbe essere utile relegare le richieste a Ajax in una factory esterna richiamata dal service? Assolutamente sì, questo tipo di pattern è consigliabile? Assolutamente sì, quindi avendo più tempo a disposizione, l'ulteriore estensione di questo refactoring applicativo vedrebbe l'introduzione di quello che noi potremmo chiamare un timeline client che utilizza effettivamente il servizio $HTTP per scaricare le cose dal server remoto e il timeline service invece che fare la chiamata HTTP GET direttamente qui si andrebbe a far iniettare come parametro il timeline client togliendo qui il $HTTP in modo da separare due livelli, il livello di logica applicativa e il livello di da dove prendo i dati, da dove attingo alle risorse lato server Ok, altre domande sono riferimenti per imparare Angular? Sicuramente i nostri corsi che facciamo con il Codemotion ci saranno dei workshop in occasione del Codemotion a Roma ci sono dei corsi a catalogo che vengono comunque pubblicati periodicamente a livello di risorse, tutorial e così via vi posto un link su Twitter alla fine della presentazione e anche quello al seminario precedente Inos dice isolare tutte le chiamate HTTP in un servizio ad hoc richiamato dagli altri service è una bad practice SNI, nel senso che è assolutamente corretto separare le chiamate HTTP dalla logica applicativa quindi avere un livello di service che rappresentano client dell'API di back-end e un secondo livello di service che utilizza il primo che rappresenta la logica applicativa vera e propria non c'è motivo di mettere tutte le chiamate HTTP in un unico servizio dato che con la dependency injection è molto facile farsi passare un servizio dentro l'altro il modo preferibile è avere tanti servizi client uno per ogni API di back-end che devo chiamare e i vari servizi di logica applicativa chiamano di volta in volta un client o l'altro o più di uno a seconda di quali sono i servizi di back-end che devono chiamare ok ecco direi che concludiamo per inviare ok ok sta arrivando un fiume di domande faccio un'osservazione conclusiva sulla struttura dell'applicativo e un ultimo piccolo refactoring che ci completa il discorso di separazione delle funzionalità di controller ci è rimasto ancora nel controller generale Twitter controller il funzionamento di gestione dei favorite anche questo può essere delegato a uno specifico controller che chiamiamo favorite controller ok a questo punto questo andrebbe semplicemente a a chiamare un metodo del timeline service ok e questo può essere definito qui analogamente ok può essere quindi rimosso dal controller principale e nella pagina è possibile dire che a questo punto noi abbiamo un un altro controller che controlla il button group o meglio che controlla diciamo in realtà questi due bottoni adesso per motivi di struttura della pagina lo dobbiamo mettere qua e quindi vedete che ho un controller che gestisce il fatto di selezionare come preferito un tweet un controller che si occupa di comporre nuovi tweet e uno che si occupa di gestire la visualizzazione della lista il passo successivo che potrebbe essere anche questo oggetto di ulteriori approfondimenti è il fatto di ristrutturare la bottoniera per farla diventare una directive quindi lo step ultimo di componentizzazione di un applicativo Angular è arrivare a definire delle componenti autoconsistenti dove c'è una parte di HTML di presentazione un controller e un richiamo alla logica adesso ci dobbiamo avviare alla chiusura della presentazione per motivi di tempo per dare la parola allo speaker successivo risponderò alle ultime domande appunto su Twitter alla fine della sessione e adesso salverò comunque il plank che potete quindi già trovare adesso con tutte le ultime modifiche e metterò anche un piccolo esempio di trasformazione della bottoniera in una directive io vi ringrazio molto e vi rimando appunto ai prossimi appuntamenti di Quad Motion e lascio la parola agli organizzatori per il passaggio al prossimo speaker grazie a tutti per l'attenzione audio disattivato ok possiamo subito lavorare al prossimo speaker